baseman mette nella situazione dentro lo scambio doveva la situazione più corretta io ho usato la colla calda per mettere nella posizione più giusta collegare tutte le tensioni devono essere collegate tranne il cavetto col barilotto blu che si tiene staccato si attacca alla rete al circuito dove bisogna collegarlo si va sulla Z21 si dice questo qua che questo caso è lo scambio che ci interessa mettiamo il numero che ci serve in questo caso l'1007 vediamo poi conferma salviamola in alto togliamo via tutto colleghiamo il cavetto blu ed è programmato tutto qui